Una stagione di sequestro di persona, come ha risolto il problema lo Stato di allora? Lo ha risolto sempre da Roma, perché funziona sempre con le bandierine sulla cartina, come ha fatto l'ONU nel traffico internazionale stupefacente con l'ONU con la cocaina, con i cocaleros colombiani. Cioè cosa ha fatto? Ha mandato mille carabiniere, mille poliziotti, l'esercito all'Ocri. Sa cosa ha fatto? I sequestri di persone erano nel triangolo Platisa e Luca Natile. I mille uomini della polizia, sa dove stavano? A 70 chilometri, a Canolo Nuovo, a 70 chilometri dove l'andrangheta di Platisa e Luca Natile teniva custoditi e sequestrati. Stessa cosa, e lì non c'è stata la calma, la possibilità, la concentrazione per gli uomini che lavoravano qui di lavorare. Perché c'era la pressione mediatica, perché si pensava che il contrasto e i sequestri di persone forse la caccia alla volpa all'inglese, cioè corriamo con i cavalli e con i cani, stanchiamo, arriviamo sulla cima delle montagne, facciamo il rastrellamento e prendiamo i lati. Non abbiamo capito nulla, una strategia fallimentare della quale nessuno ha scritto, nessuno ha parlato, nessuno ha chiesto conto. E poi dopo un anno si liberava un sequestrato con delle catene grosse che nemmeno un toro di 10 quintali riusciva a rompere, dei ragazzi, mi ricordo Celadon, mi ricordo Caselli, dei ragazzi anorrestici portati dalle asceglie, non riuscivano a camminare, si erano liberati da soli. Cioè abbiamo visto pagine brutte, pietose, momenti neri del contrasto alle mafie, e lì si sono persi decenni nel contrasto delle mafie, continuando a sottovalutare, continuando a pensare all'ala militare, continuando a pensare al posto di blocco. La procura, le forze dell'ordine, per quelle che sono le nostre forze, attenzione, cioè noi non dobbiamo dire ma la procura cosa fa? Intanto siamo sotto organico, intanto carabinieri, polizie, guardie di finanza, malgrado i proclami del ministro degli interni, nessuno dice perché loro non possono parlare le forze dell'ordine, parlo io che sono scostumato e che sono un uomo libero, loro sono più liberi e più puliti di me, ma non possono parlare perché il loro lavoro gli impedisce di parlare. Però se io le dicessi che solo sulla Ionica mancano 80, tra brigadiere e maresciarli, lei che mi dice 80, su un territorio di 50 km quadrati, la squadra mobili di Reggio Calabria, ci sono poche decine di uomini, noi molte indagini non le iniziamo perché non abbiamo uomini, quindi io starei attento, tante volte, guardi io sono in magistratura da 28 anni e sono alla procura di Reggio Calabria a tempo pieno da gennaio 1996, sono il più anziano, il più vecchio come servizio a Reggio Calabria. Io ho visto tante di queste passarelle, ma sa quanti ministri ho visto a Reggio Calabria, sa quante riunioni nazionali del Comitato Provinciale per la donna di sicurezza ne ho viste, ma sa quante promesse ho sentito, sa quanto aumento di organico, a me l'aumento di organico temporaneo non mi serve, è un danno che facciamo, perché sa come ha funzionato l'ultimo 4-5 anni fa, quando c'era, non mi ricordo chi era il ministro, abbiamo fatto un'altra due giorni, una full immersion nella prefettura, è venuta a mezza Italia, solo con i soldi di quelle riunioni noi avremmo pagato lo straordinario per due anni a chi fa polizia giudiziaria in provincia di Reggio Calabria. Sa cosa hanno fatto? Quando hanno annunciato di aver mandato 40 uomini in più alla squadra mobile di Reggio Calabria, sai cos'erano, è stata presa gente da Crotone, da Vibo Varenzia, da Cosenza e portata a Reggio Calabria per due mesi, poi pian piano alla Chetichella, man mano che si abbassava l'attenzione dei giornali e delle televisioni se ne sono andati. E la procura di quant'è sotto organico? In questo momento abbiamo 5 magistrati in meno, su un organico di 27. Siete sotto di un quarto fondamentalmente. Ma il problema sa quale è che non vogliono capire né al Consiglio Superiore della Magistratura né al Ministero della Giustizia che l'organico del numero dei magistrati viene fatto in base al numero dei fascicoli. E quindi un fascicolo per un balcone abusivo è uguale a un fascicolo per associazione linguizzata al traffico stupefacente, a un'associazione linguizzata di stampo mafioso. E questa è l'assurdità. Cioè quello che ha cercato di spiegare il procuratore Caffiero De Rao al Consiglio Superiore della Gestatura l'altro giorno quando è stata a Roma era proprio questo. Cioè la dovete finire di fare numerini perché allora non abbiamo bisogno di uomini. Se noi basiamo l'organico dei magistrati o l'organico delle forze dell'ordine in base al numero dei fascicoli, allora non c'è bisogno di tutti questi apparati. Mettiamo un geometra, un ragioniere, mettiamo un computer, un software e il computer ci dice quanti uomini devono andare a Reggio Calabria, quanti a Palermo, quanti a Catania, quanti a Milano. Se ragioniamo in questi termini. Allora cosa voglio dire? Voglio dire che per fare queste cose ci vuole più coraggio. Quanti magistrati fosse lei il ministro? E con potere di condizionare anche il CSM, cosa che invece non esiste. Di cosa avrebbe bisogno la procura di Reggio Calabria? La procura di Reggio Calabria avrebbe bisogno di altri 10 magistrati, ma quindi di altri 30 giudici. A questo stava arrivando. Ma poi ho bisogno, a parte la copertura dell'organico, io ho bisogno di raddoppiare la squadra mobili di Reggio Calabria, ho bisogno di raddoppiare il nucleo operativo dei Carabinieri, il nucleo operativo della Guardia di Finanza, se non andiamo da nessuna parte. Cioè la cosa che più mi preoccupa e mi indigna in Italia è l'assuefazione ad ogni cosa. Riusciamo ad assuefarci a qualsiasi cosa. Questa è la cosa più terribile e più triste. Cioè il fatto di sorridere davanti a delle cose drammatiche, a delle cose che riguardano la nazione, perché il problema criminali organizzata non è un fatto militare, è un fatto di democrazia, è un fatto di libertà. La storia giudiziaria ci dice che in Lombardia ci sono decine di locali di indrangheta. Un locale di indrangheta è l'organizzazione base, la struttura che controlla il territorio, cioè controlla un paese come Desio, Bucinasco, c'è lo stesso modo sui eventi operandi di platì. Perché prima di tutto l'indrangheta è così attaccata a un retaggio di manifestazione religiosa? Perché il boss ha bisogno di vedere che la statua dell'affrontata arriva e si ferma davanti alla sua casa? A dimostrazione che questo libro è un atto d'amore per la Chiesa, non è un libro contro la Chiesa. Io sono un nipote di due preti. Non sono contro la Chiesa. Io sono per una Chiesa, vicino ai poveri, vicino agli ultimi, infatti l'ultimo capitolo lo dichiamo al Papa. E noi parliamo di un'altra Chiesa. Parliamo della Chiesa di Don Pino di Masi, sulla Pianigio di Tauro, che si frappone anche fisicamente all'elite dell'andrangheta della Pianigio di Tauro. perché un gruppo di giovani in una cooperativa sta coltivando le terre che sono state confiscate col lavoro, col sudore, col sacrificio e col rischio, soprattutto delle forze dell'ordine. Si frappone ogni giorno lì, questo prete. In questo libro parliamo di Don Panizza, che è un prete che alla Mezzaterme abita, occupa un palazzo, un palazzotto che era il fortino della famiglia Torcasio di la Mezzaterme. Era un fortino dove nessuno voleva andare ad occuparlo. Lui è andato, ma sapete con chi è andato? È andato con handicappati, con storpi, con gli ultimi, con quelli che si fanno i bisogni addosso. E lui è lì ogni giorno a stare vicino a questa gente, a quest'ultima, a questa gente abbandonata anche delle loro famiglie. Noi parliamo di questa chiesa in questo libro, oltre a quella che ha avuto e che ha rapporti con l'andrangheta. Giovanni Paolo II, quando è andato nella Valle dei Templi, si è rivolto solo alla mafia militare. Questo Papa invece, quello è stato un buon Papa, un grande Papa. Papa Francesco è un grandissimo Papa. C'è una differenza sostanziale. Perché Papa Francesco non solo da subito ha cambiato atteggiamento, ha fatto vedere con i comportamenti anche spicci, anche minimi i messaggi che ha dato al clero, che ha dato al potere della Chiesa del Vaticano. Cioè, cominciando a mettere le dicole sulla stola quella sera, mettetele tu, il crocifisso, le scarpe, l'ha curato da campagna. Ma non è questo. Papa Francesco si è sovraesposto, è sovraesposto, a mio modesto parere, nei momenti in cui lui si rivolge e dice che ne pensate di una Chiesa popera. Ma è proprio necessario che la Chiesa abbia una banca? Guardi, noi abbiamo fatto, abbiamo fatto, presso il carcere di Reggio Calabria, abbiamo fatto un sondaggio anonimo. Ah beh, quello è sconvolgente. Devo dire, è una delle cose che mi ha più colpito. del libro. L'89% degli affiliati in carcere dice che io sono molto credente. Molto credente. Prega e pregava sia prima che dopo essere stato condannato. Cioè, io sono mafioso. Ma questo ha una sospiegazione. Allora, un mafioso quando uccide è convinto di essere il giusto. Io non sono io che ti uccido. Sei tu che ti metti nelle condizioni di essere ucciso. Sei tu barista che viola le regole dell'andrangheta. Non sono io l'assassino. E quindi lui è nel giusto. Lui prima di uccidere, prima di commette un reato, lui prega la Madonna. Lui chiede la protezione. Per cui lui è della parte del giusto. Lui è generoso con la Chiesa. Lui è ossequioso con il prete. È ossequioso con il Vescovo. Lui si vuole far vedere vicino al prete. Si vuole far vedere vicino al Vescovo. Perché lui è il potere. E cerca di avvicinarsi e di farsi vedere vicino a un altro potere. per crearsi consenso. Per creare ulteriore accettazione da parte delle collettività. Perché l'andrangheta esiste. L'andrangheta, per esistere, ha bisogno del consenso popolare. Perché se non c'è il consenso popolare non esiste l'andrangheta. Sarà un'altra cosa. Sarà criminalità organizzata, criminalità comune, ma l'andrangheta è un'altra cosa. L'andrangheta vive del nostro consenso, respira, si nutre del nostro consenso popolare. Altrimenti non esisterebbe. Quindi il mafioso si fa vedere vicino al prete. Il mafioso investe in pubblicità. Quando la polizia giudiziaria va ad arrestare le persone da catturare, appunto, la prima cosa che fa un catturato dopo avergli notificato l'ordinanza di custodio di catturare apre la seconda pagina o la terza dipende dal numero delle persone che ci sono degli indagati, dei co-indagati e vede l'imputazione. A lui interessa il capo A. Allora, lui è preoccupato solo se l'imputazione è di omicidio o di associazione di inquinità finanziata tra questo che facente. Perché la pena base va da 20 anni e da 20 a 30 anni per l'omicidio può essere l'ergastolo quindi lui sa invece che se l'imputazione è di associazione di inquinità di stampo mafioso al netto lui starà in carcere 5 anni. Perché è da 4 a 10 anni giusto? No, perché intanto la pena base è bassa poi ovviamente uno in carcere più mafioso è più è detenuto modello quindi è il capo mafia che gode dei benefici il cretino l'utile idiota il garzone di indrangheta è quello indisciplinato quello che dà uno schiaffo alla polizia presidenziale su ordine del capo mafia e quindi lui non gode dei benefici lui non gode dei tre mesi ogni anno di benefici in cambio avrà una tuta avrà un orologio da 100 euro oppure avrà un sorriso una pacca sulla spalla durante l'ora d'aria da parte del capo mafia e quindi lui rimane in carcere il capo mafia godrà di tutti i benefici ogni anno togliamo tre mesi lui al netto starà in carcere cinque anni quindi cosa sono i cinque anni di carcere davanti alla prospettiva che io nel mio paese sono un uomo del monte sono quello che decido il respiro il battito cardiaco di un paese per noi è inimmaginabile pensare che l'andrangheta ha bisogno di dare 55 euro per comprare un voto è un'offesa io ti voto per rispetto io ti voto perché tu mi hai rispettato io ti voto perché tu mi hai fatto cacciare la contravenzione perché mi hai fatto occupare quel pezzo solo pubblico io non hai detto ai vigili urbani di non farmi pagare la tassa io ti voto perché mi hai dato la licenza di inizia subito senza aspettare mesi nello stesso giorno eccetera eccetera perché nel termine rispetto c'è tutto possiamo parlare una settimana quindi io ti voto quando pensiamo ad una norma dobbiamo pensare poi sempre al dibattimento dobbiamo sempre pensare a cosa serve ai fini della dimostrazione se c'è o meno il reato noi abbiamo bisogno di un 400 terre che che punisca tutto ciò qualsiasi tipo di vantaggio qualsiasi tipo di vantaggio per il mafioso non i soldi ma qualsiasi bene ma non basterebbe anche un vantaggio qualsiasi attività quindi avere un'applicazione molto più ampia che risponde poi a quelle esigenze io ti voto perché tu mi hai promesso che mi sistemerai il mio figlio i rapporti giudiziari intergovernativi sono efficaci? se io per un attimo guardo l'Europa rimango sconcertato io sono stato invitato più volte al Parlamento Europeo a Bruxelles a Strasburgo in occasione dell'allora istituenda Commissione Europea Antimafia che è presieduta da Sonia Alfano voi non avete idea i parlamentari europei in particolare quelli tedeschi urlavano come vitelli per sostenere che in Germania non c'era l'andrangheta che in Germania non c'era la mafia ora se esiste un paese oltre l'Italia dove c'era l'andrangheta è proprio la Germania eppure questi sostenevano che non c'era l'andrangheta perché per vari motivi perché se un politico dice qui c'è la mafia allora deve dire perché per 30 anni lo ha negato ai suoi elettori e allora può essere preoccupato perché gli investitori non vanno più a investire in quel paese in Europa le mafie italiane cosa fanno? fanno riciclaggio e vendono cocaina sono due tipologie di reato che non richiedono il morto a terra che non richiedono gli spagnoli non è che fanno estorsioni cioè riciclare vuol dire con i soldi della cocaina comprare giustificare la ricchezza cioè comprare tutto ciò che inventa quindi alberghi ristoranti pizzeria se io se io compro un albergo a Duisburg a Rotterdam o a Francoforte io starò attento a che su quella strada non si rubi nemmeno una bicicletta ma non va bene così non possiamo essere sempre noi allora noi abbiamo bisogno che cambiano le regole di gioco io mi auguro che il governo italiano nel prossimo semestre a conduzione italiana detti l'agenda cioè mette attorno a un tavolo i ministri della giustizia europei e gli dica signori qui il problema mafie il problema sicurezza il problema democrazia ed economia europea passa da questo tavolo se in Europa non esiste il reato di esercizioni di linguista mafioso come facciamo a indagare pensando alla mafia in Germania se io non ho gli strumenti normativi per dire la mafia esiste intanto i 41 bis sono spalmati in 12 carceri italiane e questo è già sbagliato 12 carceri sono troppe bisogna concentrare i 41 bis almeno massimo in 4 carceri in modo tale da formare 4 direttori e in modo tale che ci sia la stessa linea di trattamento perché molte volte un soggetto a 41 bis a seconda di quale carcere capita può avere un trattamento soft o un trattamento duro e questo non va bene perché la legge deve essere uguale per tutti poi non abbiamo delle strutture e abbiamo delle carceri adattate al 41 bis ma non le carceri costruite al 41 bis l'unico carcere lungi due carceri circondariali costruite delle sezioni costruite proprio per il 41 bis sono a Nuoro sono uno a Nuoro e l'altro a Cagliari quello di Cagliari ancora non è stato aperto allora noi abbiamo bisogno quindi di queste poi i 41 bis sono circa 750 e sono assai cioè i detenuti i detenuti al 41 bis sono assai perché noi non possiamo gestire in Italia più di 500 detenuti al 41 bis quindi noi abbiamo bisogno di non più di 500 detenuti molte volte si abusa a dare il 41 bis cioè molte volte cioè il 41 bis dovrebbe essere dato solo ai promotori di uno sezionale solo ai capi molte volte si dà il 41 bis a gente che si ritiene pericolosa ma non è capo e poi perché l'andrangheta non ha un boss dei boss e Opedisano era soltanto in realtà un anziano che aveva un ruolo importante che era quello di sovrintendere ma non era il capo non esiste la cupola come cosa nostra il crimine di San Luca il capo crimine di San Luca non è il presidente del consiglio è il presidente della repubblica non è il presidente della giunta regionale è il presidente del consiglio regionale cioè il capo il crimine di San Luca è il custode delle regole è il custode delle 12 tavole il crimine di San Luca non fa business non fa affari il crimine è l'arbitro è l'uomo del monte è quello che dice l'ananas è maturo o meno è colui il quale presiedendo il tribunale dell'andrangheta decide l'apertura o la chiusura di un locale è quello che decide la chiusura di un locale nel caso di una faida quindi non può essere rapportato al rino della calabria e questa è la forza dell'andrangheta è stata la cupola la piramide di Cosa Nostra che è stata abbattuta perché nel momento in cui un soggetto ai vertici parla è ovvio che nel momento in cui invece l'andrangheta lavora per locali e ognuno all'interno del locale quindi del paese di quel territorio è padrone nessuno può intervenire e il crimine di San Luca interviene nel momento in cui il locale di drangheta di Villa San Giovanni viola le regole ora l'agenzia dei beni confiscati non funziona perché c'è poca gente quella che c'è sta scappando e se scappa vuol dire che non sta bene se non sta bene c'è qualcosa che non funziona e allora intervenire su ciò che non funziona a me non basta fare il magistrato cioè non mi appaga girare il mondo fare indagini indagare dimostrare la penale responsabilità di un'organizzazione mafiosa non mi basta io quando ho tempo cerco di andare nella scuola a parlare ragazza a spiegare la non convenienza delinquere vado all'università a spiegare le economie i modi di arricchimento delle mafie mi offro volontario per fare modifiche normative devo essere impegnato a 24 ore al giorno per poter poi permettermi il lusso di criticare il potere di criticare il sistema che non fa che non si muove che resta ingessato attaccato alla portona non con le cinture di sicurezza ma con dieci corde allora io cerco di essere vedi io non voglio prendere in giro la gente io voglio essere realista io quando parlo racconto l'esperienza della mia vita di 28 anni di vita intensa di magistrato e non posso prendere in giro io non voglio che loro se ne vadano a casa tranquilli e tirano il sospito se gli evola ce la faremo non ce la faremo cioè con questo sistema giudiziario con questo sistema scolastico se non cambiano le regole del giro se non cambiano i codici e se non cambia la scuola la mafia finirà quando finirà l'uomo sulla terra io per dire per aver detto questa espressione sono stato attaccato in modo violento da uomini politici di potere da miei colleghi potenti ma a me non interessa io il senso della paura l'ho perso 28 anni fa cioè non ho paura del potere o del potente che mi minaccio che mi attacca non è questo io non posso raccontare bugie io non posso dire abbiamo sequestrato due tonnellate di cocaina se ne sequestreremo altre arresteremo altre centinaia di persone tutto quello che volete ma non cambia la testa e deve cambiare il modo di pensare deve cambiare il nostro approccio alla vita noi intanto dobbiamo cambiare le regole del gioco dobbiamo creare un sistema giudiziario tale che non sia conveniente delinquere e va bene quella è la parte militare la parte dei reati eccetera ma quello che mi preoccupa quello di lungo periodo è la cultura mafiosa è il fatto che in ognuno di noi nella nostra testa c'è un piccolo andranghetista questo è quello che mi preoccupa è il fatto che ognuno di noi c'è l'un per cento di comportamento mafioso di furberia questo è quello che mi preoccupa cioè la non educazione la non cultura alla cooperativa è il fatto che